Inizia il conto alla rovescia per la prima gara dei playoff in programma domenica prossima al Via del Mare. Il Lecce scenderà in campo alle ore 15.30 per affrontare il Bassano, una partita secca da cui verrà fuori la prima semifinale dei playoff di Lega Pro. Oggi intanto riprende la preparazione dei giallorossi a Martignano, seduta ad allenamento a porte chiuse. Poi da giovedì la squadra andrà in ritiro lontano dal Salento. Mister Braglia spera di recuperare tutti gli infortunati a cominciare dal difensore Francesco Cosenza, uscito malconcio dal confronto di sabato scorso contro la lupa Castelli Romani. Problemi per una contusione alla spalla operata la scorsa estate. Nelle prossime 48 ore saranno effettuate ulteriori indagini per monitorare il quadro clinico del calciatore. Al momento Cosenza è indisponibile per la sfida contro il Bassano, ma non è da escludere comunque che possa recuperare in tempo per domenica. Lo staff sanitario dovrà poi verificare lo stato di salute del portiere Filippo Perrucchini, del difensore centrale Alessandro Camisa e del fantasista Juan Surraco, tutti e tre assenti contro la lupa per infortunio. Se per questi ultimi ci sono ottime possibilità di recupero per il playoff, invece non giungono buone notizie per Gianluca Freddi, per il quale la stagione potrebbe essere già finita a causa di un problema al tendine che lo assilla ormai da tre mesi. In casa giallorossa comunque si respira un clima piuttosto tranquillo, certamente meno pesante rispetto a una settimana fa, quando attorno alla squadra si era creato un clima non proprio sereno a causa della batosta di Benevento. Ora, dopo il meritato successo contro la lupa Castelli Romani, accolto con grande soddisfazione dall'intera tifoseria salentina, tra squadra e ambiente è tornato il feeling di inizio stagione. Infine, dalle ore 16 di oggi, martedì 10 maggio, parte la prevendita dei tagliandi per assistere a Lecce Bassano. Questi i prezzi dei vari settori, poltronissime 45 euro, tribuna centrale superiore 23 euro, tribuna centrale inferiore 16 euro, tribuna est 12 euro, curva nord 8,50 euro.